Il Paradiso, anticipazioni dal 20 al 24 marzo, Ezio e fanno una scelta drastica sul futuro. L'appuntamento con il Paradiso delle Signore 7 prosegue nella settimana dal 20 al 24 marzo 2023 con le nuove puntate in prima visione assoluta su Rai 1. Le anticipazioni della soap opera rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Ezio e Gloria che, alla fine, si ritroveranno a fare una scelta importante sul loro futuro come coppia. Spazio anche alle vicende di Vittorio che, in questi nuovi episodi della soap, si ritroverà a dover gestire l'addio di ben due colonne portanti del suo grande magazzino, pronte a lasciare definitivamente il loro incarico. Nel dettaglio, le anticipazioni del Paradiso delle Signore dal 20 al 24 marzo 2023 rivelano che ci sarà spazio per un po' di novità legate al futuro della coppia Gloria Ezio. I due si ritroveranno a vivere un nuovo momento di passione insieme e si renderanno conto di non riuscire a stare distanti l'uno dall'altro. La passione tra i due coniugi Colombo sembra essere alle stelle ma, al tempo stesso, Ezio si ritroverà a dover fare una scelta importante legata alla sua delicata situazione sentimentale che lo vede diviso tra l'ex moglie e Veronica. Ebbene, le anticipazioni delle nuove puntate della soap opera, rivelano che alla fine i due faranno una scelta che si preannuncia drastica e finirà per segnare il loro futuro come coppia. Di cosa si tratta? Quale sarà questa decisione finale che prenderanno dopo l'ennesimo momento di passione vissuto insieme? Ezio deciderà di chiudere definitivamente con Veronica oppure metterà in stand B la sua ritrovata serenità con Gloria? Lo scopriremo nel corso dei nuovi appuntamenti di questa settima stagione in onda tutti i giorni su Rai 1. E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate del Paradiso delle Signore in programma fino al 24 marzo 2023 in tv. Rivelano che si tornerà a parlare anche di Vittorio Conti e della sua delicata situazione lavorativa. Le sorti del grande magazzino milanese, infatti, appariranno fortemente in bilico, da un lato. Infatti, Vittorio ha scoperto che Umberto e Tancredi stanno aprendo la loro galleria e dall'altro farà i conti con un doppio addio. Flora e Matilde, infatti, annunceranno la loro intenzione di mollare la presa al grande magazzino e in tal modo rinunciare agli incarichi che Vittorio aveva offerto loro in passato. Una situazione di grande stallo all'interno del Paradiso che, in questi nuovi episodi, finirà per creare delle tensioni anche in vista della nuova presentazione degli abiti. Tuttavia, quello che non sa Vittorio, è che Umberto non ha intenzione di arrendersi, il perfido commendatore intende rovinare la presentazione di Conti e per tale motivo metterà a punto un nuovo crudele piano per rovinargli la reputazione a questo evento attessissimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.